Musica Bentornati, siamo qui nello spazio attualità per parlare con Werther Tursi che è sempre lui ma in un'altra veste oggi, ossia come presidente del forum del terzo settore di Pisa quindi chiediamo direttamente a lui di spiegarci di cosa si tratta Allora abbiamo sentito l'esigenza di partecipare a questo spazio che io sento mio ma in qualche modo in questo momento sono davvero ospite di questo spazio per quello che ci sta succedendo intorno il forum del terzo settore praticamente è un'associazione di associazioni che riunisce al proprio interno gran parte delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e le cooperative sociali di tutta la nostra provincia io ho l'onore di rappresentare il forum in qualità di portavoce come diceva la Graziana all'inizio e come struttura ci occupiamo di cosa? Ci occupiamo di dare rappresentanza, di dare spazio come fate voi per tante altre associazioni non l'avevamo mai fatto per il forum proprio per questa mia continua presenza e partecipazione a questa trasmissione però oggi non potevamo non farlo visto quello che ci sta succedendo intorno visto la finanziaria, visto i tagli che stanno falcidiando tantissime attività sociali e sanitarie delle nostre non solo zone e quindi dovevamo per forza dire quello che pensiamo ovviamente il forum è un'associazione di volontariato quindi da questo punto di vista un'associazione che si basa sul tempo libero di noi tutti e lo mettiamo volentieri a disposizione per, dicevo prima, far sì che queste associazioni che tutte queste associazioni della nostra provincia abbiano in qualche modo una base di riferimento comune rispetto a temi generali Quindi nel contesto sociale che tu hai tratteggiato qual è l'obiettivo principale del forum? L'obiettivo principale del forum è quello di attrezzare e rappresentare nei confronti delle istituzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nei confronti del governo il forum ha una rappresentanza provinciale, poi una regionale, una nazionale e quindi delle varie istituzioni ai vari livelli al massimo grado possibile quelle che sono le istanze dei cittadini che nelle singole associazioni, come dicevo prima, di volontariato, promozione sociale e cooperative sociali trovano spazio in termini di servizi resi Quindi parliamo di iniziative invece che cosa avete programmato per il breve periodo? Dunque nel breve periodo noi abbiamo una importantissima iniziativa ci stiamo lavorando già da un po' di tempo assieme anche alla Lega delle Cooperative e alle grandi associazioni del panorama provinciale ma non solo, che riguarda il lavoro Noi pensiamo che in questo momento effettivamente il lavoro sia un tema centrale per quanto riguarda proprio la vita di tutti i cittadini in particolare lo vediamo per quanto riguarda i giovani per quanto riguarda le donne però sicuramente il lavoro è un tema di portata assolutamente importantissima in questo momento Perché il lavoro? Perché il forum del terzo settore? Perché in questa fase di difficoltà economica con i tagli che abbiamo già visto e quelli che si prospettano ulteriormente visto che siamo passati dal 2008 a oggi da un miliardo e duecento milioni di investimenti per quanto riguarda il sociale a soltanto 200 milioni di quest'anno cioè oggettivamente penso che il tema del lavoro diventi effettivamente centrale diventa centrale in che senso? Noi siamo perché si faccia, si lavori a un patto sociale a un patto forte tra istituzioni, associazioni, cooperazione sociale in modo da garantire massima sinergia agli interventi che si fanno nel territorio massima possibilità di intreccio tra tutte le istanze che su determinati servizi vengono a confrontarsi in modo che non si determini una specie di percorso a ribasso dove in qualche modo le istituzioni per far fronte a servizi rispetto ai quali non hanno più fondi per la gestione si poggiano sulle associazioni di volontariato o di promozione sociale in questo modo mettendo in crisi posti di lavoro magari che fino a poco prima facevano riferimento alla cooperazione sociale per quanto riguarda quel determinato servizio noi vorremmo che nel territorio si riuscisse a far sì che su questi temi ci fosse la massima attenzione possibile ma soprattutto la massima collaborazione tra le varie esigenze e storie delle singole associazioni e cooperative per quanto riguarda la gestione di questi pezzi per questo abbiamo programmato un convegno un convegno dal titolo istituzioni, associazionismo, cooperazione una nuova alleanza per il lavoro, governare con i cittadini e le cittadine esatto, un convegno che faremo sicuramente nel mese di dicembre Werther, che cosa ti aspetti tu intimamente da questo convegno e da questa serie di riflessioni, da questa iniziativa? Io mi aspetto soprattutto intanto una grande partecipazione perché in questo momento io penso che i cittadini e le cittadine i dirigenti delle associazioni, i volontari tutti debbano far sentire forte la propria voce rispetto a quanto ci sta accadendo perché in questo momento si sta parlando di due grandi temi che sono da una parte le pensioni e dall'altra la patrimoniale però non si sta parlando secondo me abbastanza di quanti tagli sono stati fatti intanto nel frattempo sulla testa di tutti noi e sulla vita di tutti noi per quanto riguarda i servizi essenziali del sociale noi dobbiamo far sì che di questo si prenda sempre più coscienza prendere coscienza di questo significa anche mettere al centro come si diceva prima appunto il tema del lavoro perché è ovvio che se si tagliano questi servizi si tagliano anche posti di lavoro si tagliano anche come dire storie di vita quotidiane passate per costruire il benessere sociale condiviso di una certa comunità e sinceramente un territorio come quello della Toscana un territorio come quello della provincia di Pisa come quello del comune di Pisa non si possono permettere questo è vero anche che a differenza di quanto succede al governo con questi tagli che dicevo prima trasversali sinceramente nei nostri territori fino ad oggi tenendo conto appunto della nostra storia le nostre amministrazioni hanno dato molto per cui sono riusciti al comune di Pisa a continuare a investire sul sociale grazie agli avanzi di amministrazione si è riusciti in regione Toscana con lo stesso criterio a investire sia sul sociale che sui giovani nonostante i tagli assolutamente indicibili che ci arrivano quotidianamente dal governo centrale bene e noi continueremo a seguire questi temi e questa iniziativa intanto possiamo dire che lo spazio attualità di oggi si chiude qui e come avete annunciato prima all'inizio nella prossima puntata ci saranno dei cambiamenti quindi diamo il saluto al nostro pubblico con questo tipo di trasmissione e speriamo che la prossima sia ancora più avvincente ringrazio Werther e ringrazio tutti noi torniamo come sempre tra 15 giorni